Allora Mary che devi fare? Devi fare ancora dei salutini? Ti devi mettere gli occhiali? Mary? Brava Mary! Allora vediamo un pochettino se Mary riesce a fare questi salutini Allora stasera qui con noi doveva esserci l'attore Michele Guarino Sì Per presentare un film del regista Antonio Alfano, patriarca Ciao Antonio Ma per motivi di salute non è potuto esserci e quindi li salutiamo e ci vediamo lunedì il 19 Un bacio a tutti voi Ciao Michele, ti aspettiamo il 19 Allora Mary, vediamo un pochettino se ci sta la telefonata la prendiamo Perché poi facciamo salire un altro ospite Allora diciamo subito pronto, buonasera, chi sei e da dove chiami? Pronto? Pronto Vediamo un pochettino se riescono a filtrarci questa bella telefonata Pronto? Pronto Ciao chi sei? Pronto? Pronto, siamo pronti Ciao Pronto? Sì, sei in diretta Ti sentiamo, come ti chiami? Pronto? Pronto? Vediamo un pochettino se riesce a sentirci Pronto? Pronto, eccoci qua Pronto? Pronto, siamo pronti Ciao 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 Sono Nicolina da Favia Ciao Nicolina Ciao Nicolina Ciao Nicolina Tutto bene? Sì, ti ascoltiamo Nicolina Ah, io non vi sento, sento la voce che va e che viene Ma ci stai guardando in streaming, perciò ecco Sì Ecco Sì, sì Come va? Come state? Tutto bene Nicolina? Tutto bene Qua tutto bene C'è il sole, è stata una bella giornata Qua a Napoli Sì, sì Viola da voi Viola da voi Viola da voi Perché? Vi piove Ah, li piove Ah, questo ci dispiace Vi piove, vi piove Vabbè, un pochettino a voi, un pochettino a noi Ah, va bene Senti, io volevo farti complimenti ma ho visto che fino adesso te ne hanno fatto un casino Tanta gente ti ha fatto tanti complimenti Grazie E niente, io mi associo ai complimenti che te hanno fatto le altre donne, le altre persone Nicolina, se ti vuoi fare qualche... Dimmi Se vuoi fare qualche complimenti di più, noi li prendiamo No, no, te ne hanno fatti tanti Nicolina Te ne hanno già fatti tanti a te personalmente Io li faccio a Mary, che è una bellissima signora Grazie Complimenti, veramente Grazie Anche per la trasmissione, molto bella È molto seguita, quanto sento, è molto seguita Sì, sei anche lei Grazie tantissimo È bravissima la Mary, Mary è una star È facile, la Mary è molto brava Ascolti, niente, io vi auguro una buona serata Grazie Grazie anche a te Se ce la fai, fammi sentire Ribella, a me piace tantissimo Irbella, ah, bellissima questa canzone, Mary Irbella Se non ce la facciamo, la porti per la settimana prossima Va bene, Nicolina, vediamo un pochettino, se ci riesco a cantarla te la dedico Perché ho già due o tre dediche da fare Va bene, non c'è problema, se ce la fai bene, se no niente lunedì Ma sicuramente la porterà la settimana prossima La settimana prossima sicuramente te la dedico, Nicolina, va bene? Ah, va bene, ok, d'accordo Ok, grazie, ciao Nicolina, un bacione per te Ciao, anche a voi, un bacione, buonanotte Grazie, ciao Buonanotte anche a te E sorridi sempre, che hai un bellissimo sorriso Grazie Ciao Grazie, il mio sorriso sono loro, Mary Certo Senza di loro, il sorriso Ciao Nicolina Ciao Ciao La nostra Nicolina da Pavia, Mary Sì Bella, bella, belle queste telefonate un pochettino da tutta l'Italia, Mary Sono belle queste cose Allora, vediamo un pochettino se ci sta un'altra bella telefonata Sennò andiamo con il nostro ospite E noi diciamo, ecco, ci sta un'altra bella telefonata La prendiamo, ci diciamo subito, pronto Ciao, chi sei e da dove chiami? Buonasera, sono Anna da Barra Ciao Anna Ciao Anna Ora siamo a Napoli Siamo a Barra Barra fa parte di Napoli Sì E va bene Tutto bene? Ciao Anna, sì, sei la Anna di ieri sera, Mary Sì Eh, tua nipote? Sì Ciao Anna Buonasera Ciao, buonasera Mi vuoi dedicare a mia suocera? Io l'amavo Io l'amavo Va benissimo Io l'amavo, Mary Io l'amavo Ma forza questa canzone, Mary La richiedo, non piace Bellissima questa canzone Faccio tanti saluti a Luisa Va bene A Giuseppe Ok A Giancarlo Eh va bene A Teresa Benissimo E Anna Va benissimo Ci associamo ai tuoi saluti Ci associamo ai tuoi saluti, Anna Un bacione da parte mia e da parte di Mary Eh Ok, Anna Anna Grazie Non ti dimenticare Che è la canzone a mia suocera Non ti preoccupare La prossima sicuramente sarà per voi Sì La prossima fai questa Eh, ma devo guardare prima l'alti lover, Mary Queste due qua Ma benissimo, Mary Allora Grazie Ciao Anna Un bacione per Un bacione Ciao 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 Lasciamo la nostra amica Anna da Barra Un salutone per tutta Barra, Mary Eh Allora Che facciamo? Facciamo salire l'ospite, Mary Aspetta Io voglio fare ancora altri due salutini Sì Voglio salutare Salutiamo sempre insieme Sempre insieme, Mary Gli attori Giussi Fortunato e Anthony Calozzi Ciao ragazzi Inna Ciao Inna Il maestro Lello Iniziato e Nino Doria con le rispettive famiglie Un saluto da parte mia Ciao Lello con la signora Elena e con il maestro Doria Un bacio Un bacione da parte mia A Cristina Liccardi dalla Germania Benissimo Raffaele con la moglie e i figli dalla Svizzera Benissimo Filomene Esposito dall'America Benissimo E l'attore Saldamore e Famiglia Benissimo E' bella Enzo E' la grande la Mary Allora Vediamo un pochettino se sono pronti Con la chitarra Tutta bella Tutti Allora Mary Che facciamo? Lo presentiamo? Andiamo a prendere questa altra bella telefonata Se ci sta Vediamo se ce la passano Ecco ce la filtrano E noi diciamo subito Pronto Vediamo un pochettino che è con noi Prima era Napoli Barra Pronto Ciao 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 Mary Ciao Ciao Come stai? Sto bene Sto bene Sto bene Come stai? Sto bene Sto bene Sto bene Mary E' caduta Un bacio allora Bene Dette come stai Stai bene Stai su pal Non so come si chiama Non è arrivata a dire Non lo associamo Ci mandiamo un bacio grande Allora Vogliamo far salire Il nostro Aspetta Mary Mettiamo quest'altra bella Una fanata E poi mettiamo Un pochettino di aleffoli fuori posto Diciamo subito Pronto Vediamo un pochettino dove ci chiamano Pronto Vediamo un pochettino se ci filtrano questa bella telefonata Se lo andiamo con il nostro ospite che sta dietro di noi Si Sta fremendo E' certo Perché è la prima volta che sta con noi È la prima volta che sta con noi Pronto? Pronto? Pronto Vediamo Pronto Ciao chi sei e da dove chiami? Sono Giuseppe e chiamo da Milano Ciao Giuseppe Ciao Giuseppe Siamo andati da Milano un'altra volta Mary Sì Ciao Giuseppe Dicci tutto Ciao mi puoi fare Mi puoi salutare Anthony Gallozzi Sono un tuo fan Certo Ciao Anthony Ciao Anthony Un saluto a Anthony Va benissimo Gli l'hai fatto tu Gli l'hai fatto anche tu in diretta Anthony Sicuramente lui te la ascolterà Sì Va bene Va bene Mi puoi fare una dedica Mi puoi fare una dedica? Sì dimmi quale Incomprensibile Incomprensibile Vediamo un pochettino se ci stai in scaletta Poi se no facciamo la settimana prossima Mary Va bene Ok Incomprensibile mi fa Mi ricordare Diciamo L'amore tra tre Tra te e Mary No? Non so Perché si vede un po' di incomprensione fra i due No vabbè Ascoltami Allora Mary c'ha il suo marito E lei E infatti Noi siamo una coppia che lavoriamo insieme Diciamo Ognuno ha le sue famiglie Diciamo quell'ennesima volta Mary E la mia manager Infatti mio marito sta qua Ciao E la moglie di Mario ci sta guardando Ho fatto Dio scusa Prego prego Di nulla Di nulla Di nulla Va bene Giuseppe Ok grazie mille Grazie ciao Ok lasciamo che si parla Allora Facciamo salire Ecco mio marito Saluta Ciao Enzo Ovunque vado Mio marito sta dietro di me E' sempre con noi Enzo E' sempre con noi